Che stai facendo? Lavora. Che cosa sei? Lavora. Hai uno scopo? Crea. Dove ti trovi? In Italia. E come dir? So. Di dove sei? Tu scrivi. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanto. A cosa pensi? Deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Il tuo tempo? Dezio. Che risultati hai? Arte e bassi. Che risultati hai? Arte e bassi. Non ripeto l'idea di tutto ciò che ti portano a sé. E chi mi piace? Come va il mondo? Vale. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti